Approvata all'unanimità durante la seduta del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno una mozione per esprimere sostegno alla Polint, azienda che ha sede nel comune valdarnese che in questo momento sta vivendo difficoltà a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Lo stabilimento produce anidride e ftalica, plastificanti per usi generali, plastificanti speciali e resine poliestere insature. È presente nel territorio dal 1935 e al momento occupa 240 persone, oltre alle decine nell'indotto. In tutto sei gli stabilimenti del gruppo nel territorio nazionale ma è presente anche in Asia e in America. La produzione italiana in questi ultimi tempi si trova in grosse difficoltà. Lo stabilimento di San Giovanni Valdarno è costretto ad affrontare una nuova crisi senza precedenti esterna all'azienda che condizione preoccupa la proprietà e i lavoratori. A tutti i dipendenti della Polint e dell'indotto che potranno trovarsi interessati a riduzioni dei compensi va la solidarietà e vicinanza del Consiglio Comunale San Giovannese. In questo contesto, continua la nota, sebbene non in possesso degli strumenti decisionali e risolutivi, il Consiglio Unito si schiera dalla parte dei lavoratori, promuove e chiede interventi regionali e statali finalizzati alla soluzione delle problematiche.